Carlo Calenda, segretario di azione, intervistato da Luciano Capone. Buongiorno Carlo Calenda, si parla prima dell'Europa, dell'importanza dell'agricoltura, in realtà l'Europa nasce ancora prima con la cieca, la comunità del acciaio, del carbone, l'energia e l'industria. E contemporaneamente con la comunità per l'energia nucleare, di cui si ricorda poco, ma che è stata una grande battaglia che ha fatto insieme l'Europa. L'Euratom. L'Euratom. E appunto, questi sono un po' temi su cui lei batte molto, energia, industria, diciamo, carbone, sperando che se ne usi sempre di meno, acciaio, sperando di continuare a farlo. E' un problema, diciamo, come, poi arriviamo all'Italia, ma come l'Europa sta affrontando questa transizione? C'è un problema per la nostra manifattura? E come, diciamo, sta subendo un po' la classe politica italiana questa transizione? Cioè la sta guidando? No, non è un problema, è un disastro, che è una questione differente. La Commissione Europea, in realtà, ha costruito un piano che si chiama Green Deal, ma che nasce da obiettivi di riduzione delle emissioni per arrivare alla neutralità climatica, cioè vuol dire nessun impatto con l'ambiente, entro il 2050. La realtà è che, senza alcuna analisi di impatto credibile, ha messo dei target, degli obiettivi, che in nessun modo sono fattibili. Ora, la conseguenza di questo non è una conseguenza banale. Io ieri ho fatto un'audizione con il CEO di Stellantis. Quello che sta succedendo oggi nell'automotive, che vale il 7% del PIL europeo e 13 milioni di occupati, è che hanno detto alle case automobilistiche, entro il 2025 dovete vendere un modello su 5 elettrico, non si sta vendendo, il 20% di chi ha una macchina elettrica pensa di tornare al motore a combustione. Morale, la produzione è tutta spostata su quello, anche perché sennò gli fanno 15 miliardi di multe, quello che succede è che quei veicoli non si vendono. Dunque il problema è che questo genera cassa integrazione, licenziamenti, impossibilità di avere un'industria sana. Questo io lo potrei dire sul packaging, potrei continuare sui mix, per esempio per quanto riguarda le energie rinnovabili, cioè noi, altro che i problemi in Sardegna con quattro paleoliche, noi per essere, diciamo, affidarci esclusivamente all'energia fotovoltaica, che è comunque impossibile perché è intermittente, ma dovremo più o meno coprire tutta la basilicata di pannelli fotovoltaici. Questo modo di affrontare le transizioni è un modo che distrugge l'economia, distrugge i posti di lavoro e che porta una reazione profondissima. Io ricordo che la vittoria dell'AfD nella Germania dell'Est ha due elementi, una la paura dell'immigrazione certamente, ma la seconda questa, perché la difficoltà di spiegare a un cittadino che ha un potere d'acquisto compresso da anni in cui le retribuzioni sono state al palo, in Italia molto più che in Germania, che deve prendere una macchina elettrica che oggi non è disponibile, costa un sacco di soldi, ha poca autonomia, è una roba che genera un profondo risentimento. Allora, il tema vero è che questo Green Deal va ripensato perché è già vecchio. Aggiungo solo una cosa a cui nessuno pensa. Noi emettiamo in Europa il 9% delle emissioni globali. Quando un'acciaieria chiude in Europa, secondo voi cosa succede? Che l'acciaiere smette di produrre acciaio? Non succede questo. Succede che prende l'acciaieria e la sposta in un paese dove costa meno l'emissione di CO2, dove ci sono meno diritti per i lavoratori. Il risultato netto, siccome la CO2 è in tutta l'atmosfera, non gira nell'atmosfera europea, quello che succede è che tu hai un aumento delle emissioni, una diminuzione dei posti di lavoro, e una diminuzione della crescita. Quindi questa roba è un gigantesco boomerang che abbiamo iniziato senza pensare. Carbon leakage, lo chiamano. È così. Ma gli effetti non saranno inferiori a quelli che abbiamo avuto in Occidente con la globalizzazione. Cioè altre transizioni non gestite. Noi abbiamo questa idea che capiamo che c'è una transizione giusta, l'ambiente, o l'apertura dei mercati, e non è che la facciamo come tutte le transizioni gestendola. Diciamo, andiamo lì, boom, da domani mattina. E ci succede che zompa tutto per aria. Mi sembra, diciamo, nella concretezza politica, che molte cose sono belle a parole, nelle idee, complicate nei fatti. La sinistra, diciamo, in tutti i programmi, il centro-sinistra ha le rinnovabili, spinge il 100% di rinnovabili. Vediamo, il caso lei citava della Sardegna, prima azione di una giunta di sinistra, di fatto bloccare l'installazione dell'eolico. Ma pure qua in Toscana. In Toscana si vuole andare, come precedente, si vuole andare nella stessa direzione, la Toscana, e il PD ha fatto mozione analoghe, mi pare, in Umbria e in Calabria. Come si tiene? L'altro tema, accise, tutti i programmi di sistema hanno l'abolizione dei sussidi ambientalmente dannosi, l'aumento delle accise. Il governo sta andando in questa direzione e si attacca il governo perché realizza il proprio programma. Come si risolve, diciamo, la concretezza, le idee e la concretezza? È un problema, diciamo, per lei che ha molti meno voti della sinistra, guarda molto la concretezza, ma è un ostacolo alla raccolta del consenso? Pur caso è un ostacolo, non c'entra un cacchio la concretezza con la raccolta del consenso. Se no, noi avremmo un paese che migliora ogni volta che votiamo, migliora perché fa politiche di destra o perché fa politiche di sinistra, ma migliora perché accade qualcosa. Io non credo che gliene freghi assolutamente nulla a nessuno di far accadere qualcosa. Credo che questo è un gioco tra influencer che non è un problema italiano, un problema di tutto l'Occidente, per cui sono diventate parole d'ordine che non vogliono dire niente, ma non è che non vogliono dire niente solo a sinistra, su altre questioni non vogliono dire niente a destra. e quello che succede in tutto questo è un dato solo, cioè che non succede niente. Per cui il punto della questione ambientale è talmente complesso, talmente fatto da numeri, consumo del suolo, produzione, picchi di produzione elettrica, eccetera, che tu ti ritrovi sui social a dire, a rispondere a uno quando gli dici che ci vuole il nucleare che ti dice ma c'è un sacco di sole e allora ci suicidiamo perché il problema è che ci sono argomenti che hanno una complessità tecnica per cui prima c'era una base diciamo popolare che diceva ma sai forse mi fido di uno che l'ha studiato, oggi la questione è no ma io sono per il green, no ma io sono contro il green e questo arriva all'assurdità del dibattito sulle temperature, dove più o meno funziona così il dibattito, c'è chi dice siamo a 50 gradi, stiamo per morire tutti e la risposta è mio nonno mi diceva che ha sempre fatto caldo, ora perché dicono stiamo a 50 gradi perché per fare un titolo sui giornali si prende la temperatura sull'asfalto a luna e quindi se fossimo a 50 gradi saremmo morti tutti e dall'altro lato non si dice no ma c'è un dato, cioè la temperatura è aumentata di un degrado di mezzo, si dice no, mio nonno mi diceva che era già caldo e come fai a fare politica così? Ma questo è il problema delle democrazie, le democrazie non stanno funzionando in tutto il mondo, per questo ho precisa ragione, perché ti puoi limitare a dire una cosa senza mai spiegare come farla e la cosa funziona, allora per quello che mi concerne azione noi riteniamo che non c'è nessuna transizione green che non includa la riapertura delle centrali nucleari in Italia, perché il nucleare in cui oggi l'Europa produce il 25% di energia elettrica è un'energia stabile, indipendente, perché non devi comprarla da nessuno, che ha una produzione ripeto che non ha picchi e che consente di essere indipendenti, volete sapere la storia della chiusura delle centrali in Germania dove c'erano i verdi che dicevano green mai più nucleare, la Germania emette sei volte la Francia, ma noi dobbiamo avere in testa che questi meccanismi sono complessi e chiunque li semplifica sta prendendo in giro gli elettori, è maggioritaria questa percezione? No, in questo momento vale il 3%, però è così che dobbiamo fare, è la verità. La sposto sul lato destro, lei è stato uno dei più critici, non so se, il primo, comunque tra i primi, tra i più vocali, contro Stellantis, il gruppo editoriale controllato dalla famiglia proprietaria Yelkan del gruppo Exor con il gruppo Gedi, insomma è stato tra i primi, diciamo, adesso si è arrivati un po' a una condivisione della problematica, abbiamo visto l'audizione l'ha incalzato molto il CEO Tavares, la sposto sul lato della politica, però qual è la politica industriale italiana? Io faccio almeno, forse ricordo male, ma il ministro delle imprese italiano voleva far fare un milione di autoveicoli a Stellantis, quindi i vecchi modelli dell'industria nazionale, poi è arrivato uno scontro con questa casa automobilistica e ha minacciato o chiesto di far arrivare i cinesi con un secondo gruppo entrando in conflitto con loro, che può essere una scelta anche storica per l'Italia e forse anche positiva, la concorrenza fa bene. Contemporaneamente ha ingaggiato una battaglia in Europa per estendere la vita del modello dei motori endotermici, quindi a favore della vecchia industria e contro quella nuova che vorrebbe far arrivare, poi ha messo i dazi l'Italia, ha aumentato sui cinesi, a cui chiede di voler investire, dicendo però non siamo contro di voi, mettiamoci d'accordo, ha capito qual è l'idea diciamo sull'automotive, almeno per tradurla in cinese, in Italia a me è poco comprensibile, se c'è un'idea, se c'è una strategia, lei critica il lato imprenditoriale ma anche la politica, ha un'idea su come gestire questa transizione? No, non ce l'ha, ma non ce l'ha perché in realtà c'è un punto però che non è completamente corretto, il milione di autoveicoli, che non vuol dire di auto, vuol dire di auto più veicoli commerciali, che era il livello raggiunto da Marchionne nel 2017-2018, non è stata solo una promessa di Urso, è stata una promessa di Urso e una promessa di Tavares, allora vede quello che è andato in scena ieri è uno spettacolo un pochino abominevole, perché Tavares è arrivato e a un certo punto un po' incalzato ha detto no, sì io ho detto un milione di autoveicoli, ma intendevo un milione di clienti, dico scusa ma un milione di clienti te li cerchi te però non è che... No, perché siccome le vetture costano troppo, il delta di costo delle vetture ce lo dovete mettere voi, allora questo ragione... Avrà visto che c'è stato il super bonus in Italia Tavares ha detto magari... Qua si può chiedere... Però per dirle quello che serve oggi per far funzionare effettivamente gli incentivi sull'elettrico devi dare 14 mila euro a auto, cosa che noi non possiamo permetterci. Allora no, non c'è un'idea a Urso, tra l'altro la sua idea anche di politica industriale ordinaria, industria transizione 5.0 che è l'erede di industria 4.0 non sta funzionando come gli avevamo detto perché ci sono 13 passaggi amministrativi gli abbiamo pure mandato riservatamente un suggerimento di semplificazione ma non ha risposto perché è il più bravo del mondo e quindi non ha neanche risposto. Morale oggi sono impegnati 12 milioni di euro 6 miliardi che vuol dire che la misura è da buttare e da rifare. Ma al di là di questo quello che succede è un po' più profondo sulla questione di Stellantis perché vede io ho avuto a che fare con Marchionne che era un uomo durissimo ma era uno che ti diceva una cosa diceva a me questa roba non funziona però non voglio un incentivo pubblico lei se lo ricorda fatemi rifare le fabbriche fatemi rifare il contratto e poi arriva un milione di macchine anche lì eravamo scesi a 400.000 di produzione quello che è successo dalla morte di Marchionne è stato un deliberato deindustrializzazione di questo paese raccontando palle agli italiani dal primo secondo quando Elkan decide di vendere Magneti Marelli e io chiedo al governo di usare Golden Power Conte 2 il governo non la usa Elkan promette che non si perderà un posto di lavoro Magneti Marelli come sapete sta chiudendo dappertutto quando c'è la fusione Stellantis gli diamo 6 miliardi e 3 di garanzia come lei sa che di fatto gli consentono poi di pagarsi un dividendo da 2 miliardi e 9 e vendere l'azienda che oggi è francese perché ieri a Tavarias gli ho detto scu perché a un certo punto siccome è di una dire insopportabile è un eufemismo è di un disprezzo per le sue allora mi ha detto ma lei non può dire in un battibecco abbiamo avuto la fine che non ci sono ingegneri in Italia ho detto ma io mi hanno detto questo dico che lei deposita dall'Italia si depositano un decimo dei brevetti che si depositano in Francia vorrà dire qualcosa è un dato che non sapevo ma adesso lo approfondisco e il milione l'ha promesso lui e abbiamo fatto un miliardo e mezzo di incentivi sapete quanto è costata la cassa integrazione di Stellantis dalla nascita a voi 703 milioni di euro e oggi le fabbriche sono praticamente chiuse Mirafiori Tavares è arrivato a dire che era il centro straordinario dove si chiudeva il circolo si faceva economia circolare progettazione sapete il crollo produttivo di Mirafiori 83% 83% e per moltissimi anni e lei lo sa per regalare Simone non è stata detta una parola Landini che faceva tre serate sulla sette a settimana contro Marchionne quando i numeri salivano sulla questione di Elkan delle sue promesse non ha detto una parola non ha detto e sono operai e ancora sto aspettando la querela che mi deve fare perché è col cacchio che mi farà una querela e allora c'è un punto anche per i liberali essere liberali non vuol dire che chi ha il capitale ha sempre ragione e chi fa l'operaio se la piglia in saccoccia perché questo ragionamento ha portato gli operai e ha portato i liberali a un certo punto ad avere una visione del mondo che ha una profonda ingiustizia quindi sì noi siamo pronti e con le altre opposizioni l'abbiamo fatto dopo un lavoro faticosissimo senza parlare delle vaccate di campo largo campo stretto del cugino della Meloni del fratello di mia zia della Schlein eccetera abbiamo fatto un piano di politica industriale che spiega come abbassare il costo dell'energia come fare un incentivo con local content che la Francia ha fatto eccetera eccetera il problema qual è che dall'altro lato hai e questo lei lo sa io voto i provvedimenti che ritengo giusti della Meloni mi prendo del collaborazionista per questo come se fosse un gioco di società e uno non dovesse votare i provvedimenti che ritiene giusti come se fossimo alla partita del cuore però cacchio ma gliel'abbiamo mandato gli abbiamo detto alla Meloni gli ho detto ma perché non chiami le opposizioni su una cosa in cui in fondo la pensiamo allo stesso modo facciamo un lavoro insieme oh ma non c'è mai una risposta e sai qual è la risposta la risposta è ma io non posso sedermi con la sinistra e allora abbiamo finito se il presidente del consiglio e allora è un gioco ed è l'ultima cosa che le chiedo però questo metodo alla fine si è chiesto se funziona in realtà o no perché la sua idea di guardare il concreto faccio il salario minimo con la sinistra perché mi convince voto non so il provvedimento sul nucleare ad esempio se il governo vuole andare avanti non disorienta l'elettore che invece vuole la chiarezza la destra e la sinistra e l'esperienza che era diciamo quasi il 9% del nascente terzo pollo delle elezioni è stato un risultato importante una base importante per l'europea la forza europeista ci si aspettava che l'europea fosse il campo più adeguato per quella forza politica è stato un fallimento della classe dirigente di quel modello per ognuno ha le sue ragioni un pezzo è andato a sinistra mi pare Renzi almeno finora un pezzo del suo partito è tornato a destra da dove si ricostruisce questa base c'è Marattin ha fondato si è reso autonomo eccetera c'è la possibilità di costruire qualcosa o ormai il fallimento del terzo polo ha dato come dire la certezza che si deve scegliere tra destra e sinistra no io penso che c'è ed è una strada ovviamente strettissima difficilissima lei ha perfettamente ragione tuttavia c'è un pezzo d'Italia che si è stancata di sentir parlare in modo astratto delle cose che pensa che c'è un dovere etico di votare una proposta giusta se fatta anche dai tuoi avversari politici o di ricercare le soluzioni o di spiegare io ho votato un piano strutturale di bilancio fatto dalla destra che non avrebbe fatto neanche monti per quanto è austero dopo che ci hanno raccontato 30 anni di palle sul fatto che avrebbero distrutto l'Europa fatto quello che gli pareva loro usciti dall'Euro e hanno fatto una roba che c'era Monti in aula che rideva c'era un sorriso che gli partiva da qua e gli finiva qua perché non c'era niente era più restrittivo di quello che ha chiesto la Commissione Europea e allora c'è un momento in cui gli italiani dicono è una presa in giro forse sì ma le faccio un'altra domanda perché è la domanda che mi faccio tutti i giorni se c'è un senso di fare politica diversamente da questo per me no cosa dovrei fare andare a fare il cespuglio della sinistra come sta facendo Matteo andare a fare forse il cespuglio della destra e no la risposta è no perché noi siamo dove ci hanno messo gli elettori gli elettori ci hanno messo al centro per fare un lavoro di merito e siamo al centro e facciamo un lavoro di merito abbiamo avuto delle sconfitte ci sono state delle delusioni tremende e tuttavia non ho mai pensato che questa strada che è quella della serietà e anche della capacità di entrare come posso dire nella profondità e nella complessità delle cose che oggi non va per niente di moda è l'unica strada che può salvare questo paese quanto ci vuole il tempo che ci vuole quante volte falliremo il tempo che dovremo fallire perché non è facile pensate le dico una cosa e poi chiudo davvero pensate che andremo avanti così come se niente fosse 50% dei cittadini non vanno a votare sta venendo giù la democrazia americana se non è venuta già giù l'Europa sta per finire e la dice Draghi non lo dico io perché si sta piano piano dissolvendo e in questo l'Italia è travolta perché fra 5 anni deve trovare 30 miliardi per pagare le pensioni e voi pensate che possiamo giocare col giochino di società del rifacciamo l'Unione 7.0 oppure la Meloni che prima fa un piano di bilancio Montiano però fa un video Instagram in cui dice il contrario del piano di bilancio che ha fatto allora va bene io penso che non sopravviveremo a questo perché non siamo in un'epoca ordinaria è un'epoca straordinaria e credo che la responsabilità di chi fa politica almeno io la faccio per passione e vocazione e non perché è stato il mio lavoro iniziale è quello di continuare e continuare e continuare perché la crisi del bipolarismo non è la crisi del bipolarismo italiano è la crisi del bipolarismo che sta prendendo tutto l'Occidente che l'ha fatto diventare una civiltà dove c'è internamente un conflitto di civiltà e da questa cosa non si salverà nessuno e ci vuole una forza che cerca di rimettere insieme la realtà con la proposta politica e siccome a me piace farlo e a tantissime persone che stanno in azione piace farlo lo facciamo c'è qui Zollino che ha fatto il piano energetico e sul nucleare più dettagliato che ci sia in Italia non gliene frega niente nessuno non si prendono voti su questo prima o poi succederà prima o poi succederà e bisogna avere la forza di avere lo sguardo alto di prendere le batoste di levarsi la polvere e di ricominciare perché la politica se è grande deve avere il coraggio di fare questa strada che è faticosissima io lo posso assicurare piena di delusioni ma anche per me piena di entusiasmi quindi sì sono contento andrò avanti così grazie grazie a Carlo Calenda e diamo il benvenuto